Riprendiamo una parte della discussione che concerne tutti gli imputati. Come si evince dai capi di imputazione ascritti a ciascuno, le nazioni corruttive sono state effettuate fino a un certo punto, il dicembre 2013, con bonifici bancari, principalmente a valere sul conto di Silvio Berlusconi 1.29. C'è questa lettera che è stata chiamata una lettera di liquidazione del dicembre 2013, trovata a numerose imputate in serie di perquisizione in cui il contenuto era anche stato anticipato ai media dall'entourage di Berlusconi, fine dei bonifici, vengono interrotti i bonifici su Consiglio dei legali, perché questi bonifici attesa la trasmissione tra luglio e novembre 2013 da parte dei due collegi per l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari potrebbero essere malinterpretati dall'autorità giudiziaria, quindi a malincuore Berlusconi comunica a tutte le ragazze che deve interrompere i bonifici mensili. Bene, vengono interrotti i bonifici mensili, partono le consegne di contanti tramite il ragioniere Spinelli, non subito, alcune non capiscono proprio il messaggio, la maggior parte lo capisce. Accompagnato a questa coeva, a questa missiva di liquidazione con cui comunica che i bonifici non ce ne saranno più, vi è un assegno circolare di 25 mila Euro, bonificato dallo stesso conto corrente 1.29 di Berlusconi ai conti correnti di cui sono titolari le singole ragazze, per ciò che concerne le imputate rimaste qui a Milano per competenza territoriale. moltiplicando il 2.500 per 10, fino a quel momento erano dati 2.500 Euro al mese, fa 10 mesi e non è un caso che proprio ottobre 2014 è il mese in cui la più grande parte delle ragazze, secondo quanto dichiarato a SIT dal ragioniere Spinelli, ricomincia a presentarsi. ragioniere Spinelli ha proprio detto, con quella circolare si copriva l'anno, poteva essere di 30 per essere più corretto. Quindi da un lato si annuncia ai media e alle ragazze devo interrompere i pagamenti perché se no male interpretano, dall'altro i pagamenti si sospendono per pochissimo e poi riprendono. Ci sono poi dei pagamenti di utilità, l'uso o la promessa in proprietà di abitazioni, è tutto dettagliato nelle imputazioni. Per quanto riguarda le dazioni con bonifico, la difesa Berlusconi ha offerto al Tribunale una consulenza tecnica del ragioniere Santolini e del professor Perini e ha scelto poi di offrire la deposizione del consulente tecnico Perini che come già anticipato è parsa ai pubblici ministeri estremamente inefficace e non rispettosa di principi di mera logica, è molto sbilanciata in direzione difensiva, non ha un carattere per niente scientifico questa consulenza tecnica. Non ha carattere scientifico per due macromotivi. Il raffronto dei per... cosa intende provare questa consulenza tecnica difensiva? Da un lato che Berlusconi ha pagato queste ragazze più prima che dopo, ci sono stati più bonifici prima di sapere che ci sarebbe stato questo processo, quindi prima del momento in cui secondo la prospettazione dell'accusa vi è stato l'accordo corruttivo, se la pagate più prima come fai a dare causale corruttiva ai pagamenti dopo e soprattutto che ha pagato in misura maggiore persone non coinvolte nel processo rispetto alle imputate per corruzione. Entrambe queste circostanze vanno, a nostro sommesso parere, corrette. Vi è questa ricorrente espressione nella consulenza e nella deposizione dei soggetti terzi. Questi soggetti non sono terzi affatto. Abbiamo qui un elenco dei nominativi che il professor Perini indica come gruppo di controllo, la metà di queste persone era nelle liste testi, cioè delle difese. Sono le stesse difese di Silvio Berlusconi nel processo precedente che cosa ci hanno detto mettendole in lista testi? Che si aspettavano che queste persone conoscessero il tenore delle serate di Arcore perché la circostanza su che avrebbero dovuto testimoniare era quella, erano quelle. A chi possono chiedere dei difensori quali sono i possibili testi a difesa in tutti i processi, al cliente, il cliente che conosce i fatti, i difensori per loro fortuna non partecipavano a queste serate. Berlusconi ha dato dei nomi, in base ai nomi dati da Berlusconi, da chi per lui, da chi sapeva, i difensori hanno redatto le liste testi. Su queste liste testi ci sono la metà delle persone asseritamente facenti parte di un gruppo di controllo. Ebbene, il gruppo di controllo è composto per la metà da persone che era necessario pagare, le si voleva portare come testi a difesa, non le si è portate, non hanno assunto, non si sa quale sia stata la lista difensiva, noi abbiamo portato quella prodotta, non hanno reso falsa testimonianza, non abbiamo avuto, non avendo reso falsa testimonianza, chiedo scusa, le loro posizioni non sono state trasmesse, sono state corrotte perché hanno assunto la qualifica di falsa testimonianza. La posizione non è stata trasmessa, la procura si è attenuta alla trasmissione. La trasmissione aveva ad oggetto 46 posizioni, ci sono bastate. Ebbene, metà del gruppo di controllo non può essere definito gruppo di controllo. Per quanto riguarda la metà, facenti parte dell'altra metà, una buona parte sono comunque persone che partecipavano alla serata. Risulta da fonti aperte e anche dalle intercettazioni periziate che un po' di queste ragazze andavano ad arcore. Le spinose della guerra ancora nel marzo 2015, dopo che sono state eseguite le perquisizioni, conversazione intercettata e periziata, dicono ma come? La Yushak, la casa, la Vuta, e non è, loro usano un epiteto attinente al meretricio, non è imputata e questo è il loro cruccio. Dicono ma come? La rasa culite ha avuto la casa e non è imputata? Ma perché la rasa culite sapeva delle serate? La Yushak poi commentano che sta con un uomo che non si può vedere per quanto è brutto, ma secondo la mentalità di queste ragazze, la guerra dice ma cosa poteva fare la Yushak? Lei non viene neanche dalle favelas, rievocando una telefonata, lei viene proprio dalla strada, lì da dove viene, dalla Lituania, dall'Ucraina. Cosa poteva fare, poverina, se non trovare un miliardario per quanto brutto? Questo è l'humus culturale di queste persone. una è stata sentita non in quest'aula ma in questo processo, Ravot Cristina. Ha avuto delle utilità, non era indicata in lista testi, al conteggio che abbiamo fatto, se era indicata e sto sbagliando ancora di più, non mi risulta. Partecipava alle serate, era una musicista, poteva parlare. Per quanto riguarda il raffronto dei periodi, è facile prendere un periodo più lungo, dal 2006 al 2011 ha pagato così tanto, dal 2011 al 2014 ha pagato così poco e mi devi prendere due periodi uguali. Ci sono poi delle dazioni particolarissime del periodo precedente che da sole fanno tutta la sproporzione. Ci siamo sempre chiesti perché alla Sorcinelli così tanto, ma tolti Scorchina, che era veramente bisognosa, Scorchina, Treveini e Sorcinelli, se si tolgono il milione e mezzo dato a queste tre, che evidentemente ha una causale aggiuntiva e specifica, qui non si parla di corruzione, sono dazioni precedenti, quel milione e 900 mila Euro del periodo di controllo, del periodo precedente alla notizia del fatto che ci sarebbe stato questo processo, si riduce a 351 mila da raffrontare con i 140 mila del periodo successivo e i 2 milioni e 2 fino al 2016. Quindi non è da raffrontare 1 milione e 9 con 140, ma 351 mila di prima con 2 milioni e 2 di dopo. Non mi soffermo oltre, io penso che per come è andato l'esame del professor Perini, esame contro esame, il collegio c'era, è stato talmente inefficace che credo non occorra dire altro. Dicevamo di questo accordo in cui viene promesso un mantenimento mensile e un'abitazione. L'abitazione esce da moltissime imputazioni a vario titolo. le chat e le intercettazioni come un light motive restituiscono delle ragazze che dicono siamo stufe di essere prese qui diciamo in giro, gli abbiamo parato il culo. Il light motive la frase più ricorrente è siamo stufe di stargli dietro, stargli dietro, sono stufe di stargli dietro già ad aprile 2012. D'altronde abbiamo già parlato di quella chat in cui lui dice poi scende lui come un santo e dice incontriamoci, parliamo e dicono è un anno e mezzo che andiamo dietro a lui, nella primavera del 2012 è un anno e mezzo che vanno dietro a lui. Questo andar dietro a lui non le ho contate, le troverete nelle chat che viene detto non meno di 15 volte, tra le 15 e le 25 volte siamo stufe di andar dietro a lui. Barbara Guerra ha avuto la promessa di una casa comprata, ha avuto questa promessa lei, l'ha avuta la Sorcinelli e da una conversazione tra Magnano e Spinelli hanno avuto questa promessa anche lei spinosa e concetta di vivo. I rapporti tra le parti, tra corruttore e corrotte emergono ovviamente tra le comunicazioni, dalle comunicazioni tra le ragazze, ve ne erano anche con Silvio Berlusconi, abbiamo avuto una dichiarazione di inutilizzabilità in relazione alla quale non c'è alcuna richiesta di revoca perché non abbiamo trovato delle omissioni di valutazione per quanto riguarda l'altro anche favoriti dalla Procura che non vi ha detto tutto quando era il momento. Qui non c'è, non ravvisiamo un errore, qui è una mera valutazione che non può che essere rispettata. Abbiamo punti di vista diversi, qualcuno chiede, qualcun altro, la Procura chiede, il Tribunale decide. Fine. C'è una conversazione che il Tribunale ha salvato, nel senso che non l'ha dichiarata inutilizzabile erga omnes, ma solo, ma limitatamente all'imputato Silvio Berlusconi, ossia limitatamente al parlamentare per tutta quella che è la disciplina della legge 140 del 2003 che per quanto statuito dal Tribunale non è stata rispettata, ma questa utilizzabile nei confronti di tutti, nei confronti dell'interlocutrice Guerra Barbara, credo perché fosse la prima, è per quanto vale nei confronti di qualsiasi imputato verso cui il Tribunale, come la Procura riterrà, possono esservi dei riflessi. Non per Silvio Berlusconi. In questa telefonata Silvio Berlusconi chiede più volte a Barbara Guerra di intercedere con i risperarli. siamo al 12 aprile 2012 e l'indagine della collega, siciliano dal collega Grazia Pradella, si indaga per traffico illecito di rifiuti e irrompono queste conversazioni aventi ad oggetto l'acquisto della casa di due ragazze costituite parti civili. Come vedremo, Iris Berardi aveva intenzione di parlare. In una fase iniziale voleva parlare, voleva dire la verità, lo dice, lo dice a Barbara Guerra. Barbara Guerra è in strettissimi rapporti con Silvio Berlusconi, c'è molta dolcezza tra di loro. Diremo tra un attimo il fatto che non c'era una relazione ed è provato, ma la confidenza c'è. Ma Iris Berardi lo scriveva su Twitter sostanzialmente che voleva parlare. La preoccupazione è massima, è pari a quella per Rubi. Più volte chiede a Barbara Guerra di intercedere. Lei dice che Iris dagli avvocati e dai PM non può avere niente, che tutti capirebbero se andasse a testimoniare che fa la prostituta e del resto tra le intercettazioni del processo ci sono conversazioni in cui la Berardi esplicita le sue tariffe, parole di Silvio Berlusconi. E Silvio Berlusconi che in un'intercettazione dice da quelle sentenze escono le tariffe. È la persona che ha imposto le testimonianze sulle cene eleganti. In pubblico si dice che la prostituzione è un teorema, al telefono con Barbara Guerra si dice che si sono ritenute vere sei testimoni, si dice che si fa dire i propri giornali, sono state ritenute vere sei testimoni e false trenta, è il teorema della procura. In privato alle intercettazioni si dà una certa rilevanza. Pronto Silvio, ciao Barbie, ciao ti disturbo, no no dimmi, ascolta posso andare da Spinelli giù? No vediamoci noi sabato sera. Hai notizie della, Silvio, hai notizie della, della matta? Eh l'ho sentita ieri, poi quando ci siamo sentiti la sera, va bene, noi ci vedremo allora sabato sera a cena. Ma non lo so se vale la pena di avere anche lei, no? Forse no, dice Silvio, sì vediamoci no, dai. Ma intanto ci parlo e poi magari ci sentiamo per sabato. Silvio, d'accordo, vedi un po' che lì la cosa da parlare è questa, di non fare pazzie insomma. Siccome questa roba qui sta esattamente come, come ve l'ho detta io, anche a giudizio dei miei avvocati e non diversamente, non bisogna che lei si lasci montare la testa da questo avvocato, l'avvocato di Luigi Fagella, detto Gigi nelle conversazioni tra le ragazze, che fa incontri difensivi con Iris Berardi, ci va anche Barbara Guerra, ci va Aris e Spinosa, servizio di OCP, relazione prodotta. Che non si lasci montare la testa da questo avvocato, eh ma lo so, lo so, che vuole soltanto pubblicità per sé e basta, hai capito? Eh infatti oggi era ancora lì dall'avvocato, appunto, vuole solo pubblicità per sé questo qua, è andato in giro a dirlo anche ai colleghi, adesso io c'ho la gallina dalle uova d'oro, ha detto, parlando di Iris. Sì infatti mi sono arrabbiata, anche domani mattina voleva portarla giù in tribunale, ma stiamo scherzando, ma non esiste, dice lui, ma cosa, per fare che? Silvio, digli di non fare questo errore, perché poi non è una che quando la vedono penso che sia una figlia di Maria e di Gesù, certo, se la vedono dicono si rovina soltanto, dice Barbara, esatto, questa è una che poi aveva le telefonate in cui con dei, con delle persone che le telefonavano gli chiedeva 500 euro, 1000 euro, eh me l'hai detto. Cosa vuole? Vuole dichiararsi definitivamente come una escro professionista? Eh dai, vedila e cerca di convincerla. Che vantaggi pensa di poter avere? Scusami, non lo so Silvio, cosa va a dire? Va a dire sono una puttana? Non lo so io, cosa va a dire? Sospira. Infatti io non la sto neanche più vedendo, perché ogni volta che usciamo è sempre lo stesso discorso che sinceramente mi dà fastidio rovinarmi le giornate. Iris vuole parlare, Iris è costituita parte civile, Barbara Guerra anche, ma parla al telefono, consiglio Berlusconi. Da lì al 24 aprile successivo qualcosa cambia, c'è un giro di telefonate tra Marinella, la segretaria dei Berlusconi, Redaelli. Berardi e Guerra riescono a farsi dare un appuntamento ad Arcore in serata. Nella telefonata successiva con Redaelli, che comunica alla guerra che l'appuntamento come tante volte slitta il giorno dopo, la guerra manifesta il 24 aprile 2012 un'insofferenza che avrà per i due anni successivi dicendo che è un anno e mezzo che sto dietro a lui. Sempre il 24 aprile però Berardi e Guerra parlano di una letterina di Babbo Natale che hanno dovuto scrivere. Quella mattina commentando l'imprudenza, l'ingenuità degli altri. L'appuntamento ad Arcore evidentemente c'è stato e dicono che non è mica prudente fare tutto con la stessa data. Lo stesso giorno Spinelli chiama la guerra e fa riferimento a lei, all'altra e alla stipula, ma prima devono vedersi. Subito dopo la guerra chiama Berardi e le riferisce il contenuto della telefonata con Spinelli. 12 aprile Berlusconi cerca di convincere la guerra a far tacere la Berardi, 24 aprile sono ad Arcore, hanno scritto la letterina, conversazione con Spinelli, acquisto casa Berardi guerra. Poi c'è Iris Berardi che è scherzosissima al telefono, è una ragazza che manifesta sempre una depressione di fondo e una allegria ostentata. Ha preso un grosso cane che si chiama Isi, che è quello che dovrà portare in pensione quando si chiuderà in casa per non testimoniare, che è un cane di grossa taglia e molto difficile da gestire per alcuni problemi di salute che ha il cane. E scherzando dice guarda gliela mollo a Silvio questo cane che è pieno di problemi. Le rende la vita difficile. E scherzando dice gliela lascio ad Arcore, sì amore, gli dico, è al telefono con Barbara Guerra, questa qui guarda l'avevo presa perché doveva andare nel villone. Il villone non me l'hai più dato, l'hai dato a qualcun'altra e quindi il cane non ci sta, nell'appartamento non ci sta, ecco a te, tientelo tu. Andiamo avanti maggio 2012, Berlusconi oscilla e incerto, non ha voglia di mantenere la promessa di regalare le case in proprietà, tira sul prezzo, chiede di far scendere il prezzo, il Risberardi lo chiama, fa puoi vedere tu questo costruttore così fai scendere il prezzo, stiamo parlando di prezzi di affitto. Le invita nuovamente ad Arcore, invita maggiormente la guerra di cui si fida di più, nel frattempo tutto quello che può fare fa che non sia comprare delle case, procura dei casting privati, è esplicitatissimo nella conversazione, Barbara Guerra non esiste che vada lì e faccia la fila come gli altri, grazie a Berlusconi ha il casting in privato, nella stessa telefonata però si dice, indovinate, stanca di stargli dietro. C'è una continua eccezione di inadempimento, Silvio Berlusconi tarda ad adempiere la sua obbligazione e inadimplenti non est ad implendum. Quello che si dicono alle ragazze è, ma se lui non adempia la sua obbligazione noi però non adempiamo alla nostra, non è lo minaccio di parlare così mi paga, è mi ha detto che mi paga, ci ha detto che ci dà la casa, gli abbiamo promesso in controprestazione che non parliamo, non ci dà la casa, parte il concerto, mi sembra, è tutto estremamente coerente. 30 giugno 2012, progressivo 3261, Guerre e Berardi si dicono soddisfatte di essersi costituiti parti civili, ben consigliate dall'avvocato Gigi, che è l'avvocato Fagella, in quanto parti civili dicono dobbiamo essere sentite per forza, la loro forza contrattuale, stanno commentando il fatto che una testimone ha ritrattato, 30 giugno 2012, e Iris Berardi dice, sarà perché il vecchio l'avrà allungato qualcosa, dai dai fai la brava, dice di un'altra testa che ha ritrattato Iris Berardi. Cosa si dicono in questa conversazione che è diversa da quella di prima? Che sono stanche di stargli dietro. Infine guerra è preoccupata, la guerra è preoccupata perché è uscita a cena, erano in quattro due maschi e due femmine, un paparazzo la fotografata, lei non se l'aspettava, era un festival latino americano, un luogo non di paparazzi, e invece un paparazzo la fotografata, ed erano, apparivano come una doppia coppia, due maschi e due femmine. La guerra è disperata, ovviamente cosa fa? L'ambiente è quello. Compra lei le foto. Conosciamo questa dinamica. Compra lei le foto, ma alla Barbara Guerra di essere fotografata lì non gliene importerebbe nulla, se non fosse, che non vuole che Ivo Redaelli veda queste foto. Ivo io lo conosco, mi sparisce, non mi parla più, lo perdo. Gli avevo detto che stavo a casa, ma che senso ha questa telefonata con il ruolo che abbiamo sinora attribuito a Ivo Redaelli? Le telefonate tra Guerre Redaelli sono continue, ma è da qui che appare che oltre a una sorta di factotum rispetto a Guerre Sorcinelli, Ivo Redaelli è stato parte di una relazione di tipo diverso con Barbara Guerra, di cui il test non ha inteso parlarci di battimento. Avete in sequestro una lettera, una brutta copia sequestrata, scritta a mano da Redaelli, di enorme affetto per Berlusconi, suo papà era il padre Redaelli, era i salesiani con Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi lo conosce da quando Ivo Redaelli inculla il suo legame con Silvio Berlusconi. È chiaro, ci ha anche omesso di riferire questa dinamica con Barbara Guerra, rappresentiamo questo al Tribunale onde poter valutare il più completamente possibile la portata della sua testimonianza. Ovviamente la portata della sua testimonianza nella misura in cui è stata in tutti i modi più favorevole possibile all'imputato Silvio Berlusconi. C'è poi una telefonata valorizzata dalla stessa difesa Berlusconi in cui si dice, per far ritenere indagate di fatto tutte le ragazze, sta dando solo 2.500 euro al mese. È metà della promessa quella, non era solo 2.500 euro al mese. Berardi e Guerra prendono atto del fatto che la Sorcinelli è troppo agitata, la Sorcinelli lo vedremo nel video sequestrato alle spinose, quella che urla nello studio di Spinelli, la guerra e le dice, ma calmati, nel video sequestrato alla guerra in cui sono in macchina a Sorcinelli telefona, è lei la più eseguitata. Guerra e Berardi sono preoccupate per questo, dice, ma non gliela regala mica la casa, non gliela regala mica la casa all'Ale Berlusconi se continua così. Già io ho paura che mi sparisca il bonifico, sto insistendo perché venga adempiuta la parte di promessa relativa alla casa, non è che questo mi toglie anche il bonifico. Nel frattempo Berlusconi le fa rimbalzare come una pallina da ping pong tra Magnano, Spinelli, Redaelli, Somme in contanti, visite di case, Rogiti non se ne vedono, continua. È dall'aprile 2012 al 2014 che Barbara Guerra va a vedere case, il fatto che si senta presa in giro trova fondamento oggettivo in quello che sta accadendo, sono due anni di visite di case. Finché in via Filelfo, una volta che ha la villa Bernareggio in uso e l'appoggio in città, finalmente è un po' più contenta. Se stanno male, accesso diretto a Zangrillo, chiamata diretta con Zangrillo, San Raffaele. Tutto quello che Berlusconi può fare con poco sforzo adempia la promessa. Le case è un po' più difficile. Ivore Daelli fa dei passi falsi, una volta si sbaglia, dice sì oggi vi riceve, non vengono ricevute, è già arrivata la pascale e da questa telefonata 4605 del 30 luglio il povero Ivore Daelli emerge come un'altra vittima sacrificale, come ragioniere Spinelli, come Magnano che chiama Spinelli, fa ma cosa devo fare, ci arriviamo troppo, cosa devo fare, io con questa cosa devo rispondere. Alla guerra, come alla Sorcinelli, viene sequestrata la bozza del premio binario di acquisto della villa di Bernareggio. Si capisce, su questo aspetto rilevano le siti del ragioniere Spinelli, si era pensato, emerge anche da un'intercettazione, di intestare la casa al padre della guerra, Innocenzo Guerra, ma una casa del valore riferito da Spinelli di 800 mila Euro, poi nel corso del dibattimento è stato accertato che il valore maggiore, un milione, un milione e qualcosa, per una e per l'altra, non sono dimensioni uguali, non era verosimile che una persona con il reddito di Innocenzo Guerra comprasse quello immobile. Spinelli a siti ci diceva che lui non si sarebbe mai prestato a fare intestazioni fittizie, men che meno a intestare fittiziamente una casa da un milione a chi non ha un reddito d'altronde in un'intercettazione. Barbara Guerra vuole regalare una crociera ai suoi genitori, perché anche questa famiglia è una famiglia modesta, e dice alla sorella, a una delle due sorelle, i soldi io non li do a loro, li do a lui, credo al fratello Cristian, perché da me papà fa fatica ad accettare una vacanza in regalo. Si lamentano, cade una doccia, si fa male a mamma della Sorcinelli, Redaelli non interviene, la guerra va a Miami, Redaelli le mette a disposizione la casa di un amico, la guerra dice che questa casa è in un ghetto, in una zona pericolosa, pensano fondatamente di dover essere coperte su tutto. È uno scandalo, non ho parole, non ho parole, non ho parole, si dicono guerra e Berardi al telefono, per il fatto che è ovvio che Alessandra Sorcinelli abbia una colfa H24, un autista, perché quella casa è, c'è una lamentela sulle ville di Bernareggio, sono lontane, come fai senza autista? La colfa H24, l'autista, la casa e i soldi, i soldi per mettere su la linea di biancheria intima, Black Dajan, mi riporto le produzioni di guerra a Sorcinelli, 50 e 50 per andare in America tutte e due, 50 mila Euro si intende, e così via. È inaccettabile che la Sorcinelli non abbia le cose che abbiamo appena detto, come ripeto, è un'eccezione di inadempimento fino alla telefonata del 10 ottobre in cui Magnano e Spinelli usano un verbo che è incontrovertibile, la telefonata 11397. Parlano di due appartamenti che il dottore intende comprare per Barbara Guerra e Iris Berardi. La guerra di finanza non è stata in grado in quel momento di dire che l'utenza di Spinelli era in uso a Spinelli, in quella fase è Magnano, utenza sconosciuta. Il Tribunale potrà verificare che l'utenza è esattamente quella poi da noi intercettata come l'utenza, credo intestata a Dolce Drago, è l'ufficio di Spinelli. E il tenore alla telefonata attribuisce comunque anche la voce di Spinelli che il Tribunale può autonomamente verificare. Questa eccezione di inadempimento per guerra e Sorcinelli, guerra a Berardi è un crogiolamento. Se lui non fa quello che ci ha promesso, noi non facciamo quello che abbiamo promesso. Proseguono la conversazione di qualche minuto prima in un progressivo successivo, dove appunto parlavano di comprare e seguono telefonate guerra a Magnano con appuntamenti per vedere delle case. Magnano parla con il suo collaboratore e il collaboratore dice ma a parte il fatto che queste hanno già due ville a V-mercate queste, cosa vogliono? Hanno due ville a V-mercate, Magnano lo corregge. non è V-mercate, è Bernareggio. A novembre al telefono con Magnano la guerra, le è uscito di mente Corso Vercelli come Casa Milano, si accontenta di Corso Garibaldi, poi le piace Piazza Mondadori e poi si accontenta dell'Arco della Pace. Fatto sta che a marzo 2013 la produzione è sempre quella, la 45, le visite ad Arcore della guerra subiscono un'impennata. 7 marzo, 16 marzo, 26 marzo, 28 marzo, 6 maggio, il 10 maggio la Barbara guerra rende la sua reposizione, il giorno dopo 11 maggio è ad Arcore. 11 maggio, 22 maggio e poi prosegue. Eppure il ragionier Spinelli nelle sitte il 17 febbraio ci aveva detto che Berlusconi in quell'epoca stava dismettendo il suo patrimonio immobiliare, il suo trend era non di acquisire immobili ma di dismetterli per il semplice fatto che doveva far fronte col suo patrimonio personale ai debiti di Forza Italia. Dismette tutto e nel frattempo compra per le corrotte. Compra. I contratti preliminari sono stati sequestrati, in una coppia è per persona nominare, nell'altro è lasciato in bianco, emerge la possibilità di innocenzo guerra che poi però non è possibile. Poi mi sembra, anzi ho visto che tra le produzioni c'è anche il contratto di acquisto, contratto di acquisto che era stato bloccato dalla difesa di Berlusconi per prudenza, ma il preliminare c'era, i due assegni di caparra di 77 mila Euro c'erano in epoca molto più poi avanzati anche per adempiere alla promessa di acquisto fatta a Redaelli che aveva tenuto ferme queste case anni senza ricevere i soldi del rogito, verranno poi acquistate da Berlusconi ma a questo punto è anche una questione di contrattuale. E' emerso in modo chiaro che Silvio Berlusconi ha un problema a scrivere la parola donazione. La disciplina sulla tassazione delle donazioni ha avuto un'evoluzione che l'imputato Berlusconi conosce sicuramente meglio di noi. Fatto sta che il ragionier Spinelli ci dice, assommare informazioni a precisa domanda, che sì, quando c'è un prestito di durata molto lunga, ad esempio ultraventennale, di solito Berlusconi non pretende la restituzione e lo sa già dall'inizio che non pretenderà la restituzione. Questo è il suo modo, abbiamo già accennato settimana scorsa che dalle sezioni unite Mills emerge scritto che i 600 mila dollari dati a Mills per mentire al processo avevano la causale prestito ultraventennale. Da un'intercettazione tra uno studio legale, si capisce dal tenore, e Spinelli, in questo vostro processo c'è la trattativa con Miriam Bartolini. in arte Veroni Calario, stanno capendo, qua si parla di milioni e milioni e milioni, c'è un prestito fatto nel 2007 e questo Adriano Curti chiede a Spinelli, Spinelli più volte risponde dicendo la verità, mi scusi ma questi 20 milioni li dobbiamo mettere dentro questa trattativa di liquidazione o sono una cosa... Spinelli tre volte gli dice no, guardi, ma è molto onesto, cioè poteva cogliere la pala al balzo e dire sì beh allora scomputiamo quei 20 milioni, erano un prestito, non erano un prestito, no, dice non c'era l'intenzione sin dall'inizio, quando fa un prestito ultraventennale Berlusconi è il suo modo di donare, non vanno neanche computati nella trattativa per il divorzio perché erano una donazione, però si chiamavano prestito, infruttifero, la stessa causale dei bonifici fatti alle ragazze, anche l'Espinosa avrà una casa nello stesso palazzo della guerra. Abbiamo già detto delle lamentele, la Yushak è indagata, non è indagata, ha avuto la casa, però sapeva, la Iespica ha avuto la casa, anche la Iespica sapeva, ma non è stata trasmessa. E la guerra dice, loro comode e comode si sono trovate la casa, non come me che dovevo andare a urlare negli uffici di Spinelli, in questo andare a urlare negli uffici di Spinelli che la guerra utilizza scherzosamente, è racchiuso tutto l'atteggiamento che la difesa propone come induttivo. Va letto insieme all'altro vocale WhatsApp di Barbara Guerra, in cui scherzando dice, sto andando da Spinelli tutte le settimane, vado giù a prendere lo stipendio. È uno stipendio, quando ci sono degli straordinari o quando la nota spese al datore di lavoro è troppo elevata, c'è un po' di tensione, ma va pagato, è una nota spese elevata, ma va pagata. Il datore di lavoro si irrita, ma paga. Sentono sempre la mancanza di Spinelli da quando non possono poi più andarci. Il 7 ottobre 2014 provano veramente simpatia per questo ragioniere, che dovrebbe essere il destinatario delle minacce estorsive e mai lo è stato. Anche la telefonata registrata dalla guerra sul suo telefono del 7 ottobre 2014, in cui la guerra è veramente stanca, va ascoltato il timbro, il tono della voce, la relazione tra i due. Dice, se continuiamo così ragioniere, io però vado in questura. Anche lei è strano andare in questura per chiedere un risurcimento o danni all'immagine. Vai in questura se la cosa è un rilievo penale, ma non è una minaccia, è una considerazione. In ad implendi non è stato in plendum. È una continua trattativa su un prezzo che non è stato determinato abbastanza nel dettaglio. È un rapporto che vede tensioni e distensioni a seconda degli accadimenti. Il pagamento di tutte le spese correnti, ci sono le produzioni sulle bullette, c'è la deposizione di redaelli, è dato per scontato in ogni singolo contatto tra le ragazze. Anche quando la Barbara Guerra parla con la sorella e con il padre, questo è dato per scontato. E poi c'è la telefonata sulla formula. Il progressivo 795, RIT 46, Redaelli e a Milano 2. Ivo, con quella formula che ti ho accennato, tu effettivamente qualsiasi, che siccome non vabbè devo spiegartelo, sei veramente, sei veramente, falla vedere a chi vuoi e sei tutelata a tutti automaticamente è tua. Capisci? Sì, ho capito. Va bene, dai. Tanto cioè, volevo farla vedere all'avvocato in questi giorni. E quindi, Spinelli Magnano, bisogna comprare una casa a Guerre Berardi. Redaelli, la casa automaticamente è tua. La parola donazione, Berlusconi, non l'ha mai usata in vita sua. Insisto per quanto abbiamo scritto nell'imputazione. Vi era la promessa di una denunazione. Non so come altrimenti provarlo. Ed emerge dalle telefonate della guerra il rapporto con questo Pasquale, di cui lei è contenta, scontenta, non le piace come si comporta, però Pasquale abita dietro Radetzky. La circostanza è particolarmente valorizzata dall'imputata. C'è proprio un soppesamento di queste persone, degli uomini, che è un soppesamento del loro portafoglio sostanzialmente. Le persone normali, quando si parla di una persona che non è miliardaria, ed emerge la telefonata che non è miliardaria, accanto alla nuova persona c'è sempre un virgola poverino. La relazione con Pasquale, la relazione con Ivo, la ricerca, quando parla con le amiche, con la madre, con la sorella, di un fidanzato quando non c'è Pasquale. Il papà innocenzo è contento che si stia rivedendo con Pasquale. Ha delle altre relazioni Barbara Guerra. Non ha una relazione, Consiglio Berlusconi. Sto dicendo tutto questo per arrivare a dirvi questo. Amore, Barbie, Barbie, amore. No, è un amore utilizzato come le ragazze lo utilizzano tra di loro. Amo il fatto che neanche alcuna di queste ragazze potesse essere considerata una mantenuta, ma che debbano essere considerate prostitute, è stato affermato dalla Cassazione, da una delle due Cassazioni del Rubi 2 e la produzione numero 6. È stata costretta la Corte di Cassazione, a causa di questa scelerata scelta difensiva, a fare la distinzione tra mantenute e prostitute. Manca, nel rapporto tra Berlusconi e queste donne, secondo il Supremo Consesso, il requisito della relazione costante. D'altra parte, sembra arduo pensare che l'onorevole B potesse contemporaneamente gestire un rilevante numero di relazioni più o meno affettive, ma costanti continuative. Così come manca l'intenzionalità per B.S. di badare il mantenimento delle varie donne che si alternavano alla sua tavola prima. Iris Berardi è una ragazza di origini modestissime, il reddito dei genitori, l'ISE, lo dice al telefono la mamma, io ho l'ISE zero, o comunque inferiore a ogni qualsiasi soglia di rilevanza. Berardi passa dei soldi ai genitori, è una ragazza, abbiamo già detto alcune tratti caratteristici di Iris, è una ragazza non esosa, è una ragazza di Forlì, non è milanese e non ha pretese, lei vuole una casetta. L'unica priorità rispetto alle pretese delle altre ha un'esigenza a Iris Berardi, un piccolo giardinetto per i cani, è l'unica cosa per lei imprescindibile e ha un atteggiamento simile a quello di Mann, ha un atteggiamento simile a quello di Mann, vuole parlare o meglio dice al telefono che vuole parlare, a questo dobbiamo stare. Dice che vuole parlare, lo dice alla guerra, si è costituita in parte civile, si vede con il suo difensore, il difensore è quello che Berlusconi teme. Avete bisogno di una pausa, non ancora. Iris sta cercando di fare un mutuo, ne parla a fondo con la madre al telefono. L'appartementino è piccolo, 160 mila euro, poi scende. La madre ha trovato un prestito aggiuntivo di 20 mila euro, ma è la fase in cui Iris non vuole parlare, non vuole mentire. La madre nullatenente di Iris ha trovato una banca che fa un prestito di 20 mila euro. Nel frattempo lei chiede a Berlusconi un'intercessione per avere un lavoro, perché per fare il mutuo in banca deve avere un lavoro fisso e la ragazza va a fare un colloquio procuratole da Silvio Berlusconi, perché lui gli chiede come è andato il colloquio, è chiaro che gliela procura, per fare la centralinista a 800 euro al mese. Lei il colloquio lo va a fare, questo va a suo merito. Al colloquio le dicono perché per 800 euro al mese deve lavorare anche sabato e la domenica e allora lei dice a Silvio ho rifiutato, Silvio risponde è utilizzabile questa conversazione, non è stata oggetto di alcunché. Comunque a favore, Silvio dice e sono d'accordo con te, è d'accordo anche il pubblico ministero, 800 euro al mese per lavorare anche sabato e la domenica, va bene tutto, non c'è giudizio sul fatto che Iris Berardi l'abbia rifiutato, ma poi sopra il contratto fisso che la banca pretende per poter concedere un mutuo ci vuole anche qualcosa di reddito in più, ci vuole il contratto, Iris lo chiama il contratto con Mediaset, Iris comprensibilmente identifica reti televisive italiane con Mediaset, Iris non conosce tutte le varie compartecipazioni societarie, poi la difesa ci dirà che il RTI non è Mediaset, che Berlusconi non c'entra, fatto sta che in questa continua tiritera di aspettativa del contratto da Mediaset in cui emerge chiaramente che dipende da Silvio Berlusconi se ce l'avrà o no, alla fine dice alla madre e alla Barbara guerra, guerra, il contratto con Mediaset è arrivato, il contratto con Mediaset documentalmente prodotto, il contratto con RT. Ma perché deve fare il mutuo Iris Berardi? Lei non ha bisogno del mutuo, lo dice al telefono un amico, lo dice al telefono la mamma, cerca di non parlare ma ne parla, il mutuo è una copertura, i soldi lei ce li ha ma non deve far vedere che ce li ha, quindi lei ha 100.000 euro, perché non ci sono sul conto in quel momento, dice 100.000 euro, la mamma ha detto ma in banca mi hanno detto che ne hai 64, non 100, alla fine lo deve dire mamma ne arrivano altri 30 dopo domani e le arrivano altri 30, quindi siamo quasi a 100, a 94, fa mamma io devo fare un mutuo e chiede a un amico, non dei soldi, chiede una fideiussione per 5-10.000 euro, fa guarda io ho un problema, chiamiamolo un problema fiscale, io non ho un problema di soldi, i soldi ce li ho, ma devo lo stesso fare un mutuo e questo mutuo deve essere di una somma superiore, se io ho 100 devo fare il mutuo almeno di un 105, se no non si capisce perché faccio il mutuo, perché io ho una somma di 100 che non uso per comprare l'immobile, la somma di 100 che ho, e sappiamo che ce l'ha, la do alla banca in garanzia, in un documento che rimarrà fuori dal mutuo, la banca ha una garanzia di 100.000 euro che ci sono, non li uso per comprare la casa perché io formalmente non li ho e ho bisogno di una fideiussione solo per l'eccedenza, quindi di 5-10.000 euro e quindi Iris al telefono ci dice che la casa se la sta comprando con i contanti, con i bonifici e che sta in anticipo a cosa le arriverà, circostanza da collegare alle dichiarazioni utilizzabili del ragionier Spinelli, ai tabulati Berardi Spinelli, al diario di Iris e a quant'altro dal tribunale, da cui il tribunale può evincere la circostanza graneticamente provata che Spinelli dava contanti in abbondanza a Iris Berardi. Eh Roberto, un problema fiscale, devo fare questa operazione con la banca in modo che risulta che io ho avuto un finanziamento dalla banca. A luglio 2012 il reddito mensile da Berardi, lei fa i conteggi con la mamma, è salito a 5.000 euro perché dice RTI questo, i 2.500 più RTI, lei fa un calcolo, i 4-5.000, in realtà un po' più di 5.000, non vuole proprio dire alla mamma che ne ha 5.000, se la mamma pensa che ne ha 4.000 è un po' meglio. E ancora luglio, non possono più stare dietro questo qua. I rapporti stretti tra Berardi e guerra sono evincibili da qualsiasi fonte di prova, tant'è che è la guerra che Berlusconi chiede di intercedere per convincere la Berardi a non andare a parlare. Abbiamo detto che forse la si voleva far sentire all'inizio come le altre perché a Rubi viene sequestrato il documento dichiarazione spontanea del Presidente Silvio Berlusconi che è il contenuto delle spontanee dichiarazioni di Berlusconi nel processo a monte, come ci ha riferito in aula il test Bertoli. Quale può essere il senso di dare a Iris Berardi le spontanee dichiarazioni dell'imputato nel processo? E poi però Rubi il 10 decembre non si presenta in udienza. Su Twitter Iris scrive Rubi è stata rapita dagli alieni, anzi non è stata rapita dagli alieni, è stata rapita da qualcun altro, non lo ripeto a favore di pubblico adesso, però vi chiedo di andare a leggere questo tweet prodotto perché il riferimento che fa Iris Berardi è a Silvio Berlusconi, gli dà il nome di un nano inesistente. Arriviamo un anno dopo, no un anno dopo, siamo a dicembre 12, arriviamo a maggio 13 e ritroviamo Iris Berardi chiusi in casa, ne abbiamo già parlato, abbiamo prodotto i tentativi di citazione, le menzogne sul numero di telefono dette dalla mamma contattata telefonicamente, il diario in cui lei descrive la sua latitanza. Ma c'è un dato, da tutte le presenze ad Arcore emerge che Iris era da luglio 12 che ad Arcore non si presentava, questo conferisce una certa solidità a quanto detto da Iris a Barbara Guerra al telefono e ai suoi post sul fatto che lei intendesse parlare. Non ci va lei ad Arcore e Berlusconi, abbiamo visto, sapeva che lei voleva parlare. Della latitanza vi abbiamo già parlato abbondantemente. Durante quella latitanza la latitanza Iris però se esce a determinati orari esce per vedersi con Spinelli perché vuole chiedere i soldi a Spinelli perché all'inizio si divertiva ma poi non ce la fa più, è pesante per una ragazza così esuberante star chiusa in casa, deve chiedere i soldi a Spinelli per andare a fare un viaggio. La solita prudenza della testa è buono, diceva che però c'è un'ambiguità perché la residenza dove lei era nascosta poteva agganciare la stessa cella di Spinelli e quindi vi è stato detto che non è una prova piena che gli agganci di Iris dicessero che era andata da Spinelli. E però la prova piena c'è perché è stata andata a cercare e la si è trovata nelle conversazioni, nei contatti. Sui bonifici e sui contanti dati a Iris Berardi ha deposto il testa e pavone, a quella deposizione mi riporto e mi riporto soprattutto alle produzioni credo 137 e 138 che sono le rendicontazioni fornite da ragioniere Spinelli in sede di Sitte in due diverse occasioni per diverse annualità. Il 17 febbraio 2015 mi riporto al capo di imputazione Iris Berardi, Giuseppe Spinelli ci dice che Berardi si ha un appartamento a Milano 2, è il bilocale della residenza Sassi di quel capo di imputazione dove è andata a stare dopo che è lasciato via Olcettina. Non c'è un contratto d'affitto, è un uso senza contratto. Iris lo usa in modo discontinuo perché Iris, siamo a 17 febbraio 2015, si è comprata la casetta a Forlì e usa questa casa solo di rado, però l'uso l'è stato dato. Dichiarazioni da ragioniere Spinelli. Sorcinelli e Alessandra hanno avuto tantissimo. Mi viene chiesta una pausa e poi accelero, meno dettaglio. o se no facciamo. Va bene, ci vediamo tra un quarto d'ora.